In due minuti vi dedichiamo alla Maratona del FAI che parte domenica prossima. Allora facciamo entrare Daniela Bruno, archeologa responsabile della valorizzazione beni del FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano. Buongiorno. Prego Daniela, allora, raccontiamo intanto quanti sono questi siti aperti in occasione di questa Maratona di domenica. Oltre 500 siti, oltre 500 luoghi. In tutta Italia, in 130 città d'Italia e i nostri 3500 volontari, volontari del FAI, in particolare i giovani quest'anno, che hanno deciso di aiutarci a appropriarci, riappropriarci, riscoprire il nostro patrimonio culturale. Quello che ci passa davanti sotto gli occhi nelle nostre città, luoghi meravigliosi che la maggior parte delle volte non conosciamo. Tra questi siti c'è anche Capocolonna in Calabria, di cui noi credo sono queste le immagini che stiamo vedendo. Che è stato, diciamo, un luogo al centro di grandi polemiche. Perché? È stato un sito molto problematico. Intanto è uno dei siti della Calabria archeologici più importanti in assoluto, con un tempio famosissimo del VI secolo a.C., una città romana, un museo straordinario, che ha subito un danno. Vedete? Questo era il... Sì, la stricata. Esatto, lo spazio davanti alla chiesa principale, che peraltro ospita una festa molto amata dal paese, che era stato completamente lastricato, tombato, sotto una coltre di cemento e con rete eletto saldata, una rete fatta apposta per i parcheggi, che sinceramente non si prestava a quello che c'era sotto. Nel senso che, poco prima di fare questo lastricato, si era scoperto lì sotto il foro della città romana di Crotone, la città di Capocolonna, per cui un posto straordinario, che era il caso di valorizzare, e di certo non seppellire sotto il cemento armato. Allora, facciamo l'appello del FAI, il titolo di questa domenica è... FAI Marathon, alla FAI Marathon vi invitiamo tutti quanti, in 130 città italiane ci saranno percorsi tematici. Ricordiamoci di salvare l'Italia, non soltanto domenica però. No, ricordiamoci di salvare l'Italia, sempre iscrivendoci al FAI, aiutando il FAI a curare il nostro patrimonio culturale, così importante, perché poi, attraverso soprattutto l'iscrizione al FAI che consigliamo a tutti, ce lo godiamo. Così come faremo il 18, domenica, riprendendoci le nostre città, andandole a visitare, andando a osservare, a scoprire delle meraviglie inedite. La dai questa lavagnetta, per favore? No, perché mi hanno scritto... Ah, l'hai cancellato? Mi hanno scritto, se ti capita chiudi. Devo chiudere, perché ci sono Michele, Mirabella e Virginie Passarco Nevisir, non prima di avervi detto che, sempre a vostra richiesta, domani torneremo ancora a parlare di pensioni, perché ecco la legge di stabilità. Grazie Alma al FAI, al Fondo Ambiente Italiano, Elisir, Michele, Mirabella e Virginie Passarco, mi mandano ai tre, torna domani perché è sempre con te.